Anche per le cicche di sigarette vale la regola che un rifiuto può diventare, se debidamente trattato, una risorsa. E qui a Capannoni fanno apposta una raccolta differenziata per dare materia prima all'Università di Pisa. Il primo passaggio è un trattamento termico, cioè di fatto i mozziconi di sigaretta vengono bolliti per 10 minuti in acqua. Il secondo passaggio consiste nel separare l'acetato di cellulosa che rimane a galla dopo la bollitura e che rappresenta il 95% del residuo, che viene separato, asciugato e quindi cardato come se si trattasse di lana. A questo punto il fioccato che otteniamo viene utilizzato come substrato inerte per coltivare piante ornamentali. Oggi la parte sperimentale si è conclusa e quindi siamo pronti per entrare nella fase industriale. Il fioccato può sostituire nei vivai la lana di roccia che deve essere estratta e smaltita, mentre questo è un prodotto biodegradabile. Il reflu, ossia l'acqua di lavaggio che otteniamo, viene a questo punto trattata con una miscela di batteri e alghe monocellulari che sono in grado di ripulire appunto questo liquido e di restituirci dell'acqua che rientra in circolo e contestualmente produrre una biomassa algale che è opportunamente trasformata dall'origine a biodiesel. Abbiamo stipato che con tutto quello che riusciamo a raccogliere a Pisa saremo in grado di saturare il comprensorio pisano con questo substrato. Una ricerca che dimostra una volta ancora che non ci manca la conoscenza scientifica per ridurre la nostra dipendenza dalle materie prime non rinnovabili attraverso lo sviluppo dell'economia circolare.